Sembrare povero in realtà è molto importante e lo so che è un qualcosa un po' di strano, suona un po' new age Però in questo video ti spiegherò nel dettaglio il perché dico questo e perché effettivamente a conti fatti può essere un'ottima soluzione Prima di tutto dobbiamo essere consapevoli che l'obiettivo è arricchirci noi, non arricchire il nostro ego Qui non siamo qui per fare i palloni gonfiati, siamo qui per costruirci un futuro degno di essere vissuto Ci sono infatti quattro buoni motivi per cui mantenere un basso profilo ti porterà risultati straordinari E ho deciso di fare questo video un po' controverso basandomi su quella che è la mia esperienza personale Che non vuol dire che poi sia così per tutti, però ecco questo modo di fare mi ha portato dei risultati straordinari nel tempo E credo che possa fare altrettanto con le altre persone Ecco perché ho deciso di andare a sviscerare quelli che sono gli aspetti principali che mi hanno permesso di raggiungere quello che ho raggiunto E cercare di impacchettarli qui in quattro motivi, quattro step che possono tornarti utili se anche tu vuoi migliorare la tua condizione economica Primo motivo, vivere con un profilo basso ti permette di liberarti dalla perenne sensazione di insoddisfazione Ed è una sensazione secondo me estremamente dannosa, che veramente può distruggerti dall'interno Ed è quindi molto importante liberarsene il prima possibile Prova a pensarci, ogni volta che raggiungi un traguardo più o meno importante che sia, economico o non Quello che siamo inclini a fare come esseri umani è guardare al prossimo traguardo Esempio, un traguardo potrebbe essere comprare una casa nuova o comprare un'auto nuova O quel telefono che abbiamo visto in quella vetrina o che abbiamo visto dal nostro amico e che desideriamo ardentemente Ci mettiamo dei soldi da parte, lavoriamo, facciamo il possibile e poi alla fine riusciamo ad ottenere quello che volevamo ottenere Appena compri quell'auto che volevi tanto, che desideravi tanto, ti siedi, accarezzi il volante Guardi il cambio, ti guardi intorno e dici Oh, senti quel profumo di nuovo, quel profumo di successo, di traguardo raggiunto Ti senti al settimo cielo, ti senti veramente felicissimo Sei contento perché finalmente Ah, ho raggiunto il mio obiettivo Ed è una scarica di dopamina incredibile Inizia a guidare quella macchina, magari passano i mesi, passano gli anni, ti abitui E inizia a guardarti intorno però Inizia a guardare la macchina di quell'amico che è più bella Inizia a guardare quella, ma guarda qua è uscita quella lì che è ancora meglio E quindi inizi a sentirti un po' amareggiato Perché desideri di più Desideri di più rispetto a quello che tu hai già ottenuto E così in un attimo, ancora prima che tu te ne possa rendere conto La tua gioia iniziale si trasforma in desiderio O nei peggiori dei casi in invidia Verso quella persona che ha una macchina più bella della mia O una casa più grande della mia O un telefono che funziona meglio del mio Questa non è solo una sensazione In realtà è stata analizzata a fondo da scienziati di tutto il mondo E prende il nome di paradosso di Esterlin In soldoni questa sensazione, queste sensazioni funzionano un po' come un tapirulan Motivo per cui è conosciuta proprio come legge del tapirulan o qualcosa del genere Non importa quanto tu stia correndo veloce Rimarrai sempre nello stesso punto Lo stesso vale anche con la felicità Infatti questo paradosso, se vogliamo, questa legge del tapirulan Ci mostra chiaramente che una ricerca della felicità in cose esterne Quindi oggetti, in realtà ci fa stare nello stesso punto in cui siamo Cioè tu immagina questo Questa qui è la linea media della felicità Cosa succede? Succede che tu compri un'auto nuova Fantastico Esplodi Wow Sei felice Sei felice Quindi ti distacchi dal tuo punto medio di felicità E raggiungi nuove vette Che bello Ho raggiunto il mio obiettivo Poi passano i mesi Passano gli anni E quell'oggetto che tu hai preso Diventa sempre più normale Entra nella normalità E ritorni quindi sul tuo punto iniziale Quell'oggetto è normale Lo uso tutti i giorni Lo guido tutti i giorni Non gli dai lo stesso peso, no? È un po' come quando i bambini gli dai un gioco nuovo Sono euforici Ma dopo un po' lo buttano da parte È una cosa della natura umana Cioè funzioniamo così Cosa succede a quel punto? Che non solo arriviamo qua Ma magari iniziamo anche a scendere Ci sentiamo infelici, insoddisfatti Perché? Perché abbiamo visto l'auto del nostro vicino L'auto del nostro amico Iniziamo a sentirci insoddisfatti Di quello che abbiamo Quindi da un momento iniziale In cui siamo esplosi di felicità Perché l'abbiamo raggiunto Iniziamo a sentirci insoddisfatti Perché abbiamo quello E non possiamo avere di più Soddisfazione, insoddisfazione Ci guida Ci motiva Teoricamente Perché molti si deprimono e basta Però una parte Ci motiva Ci sprona a fare di più Quindi lavoriamo sodo E cazzo compriamo un'auto nuova E boom Di nuovo siamo partiti Abbiamo la nuova auto Fiammante Fantastica Bellissima Poi di nuovo però Cosa succede? Si ritorna lì Ed è proprio Questo movimento No? Oscillatorio Intorno a un punto medio In realtà di felicità La nostra felicità È sempre quella Tende a essere sempre quella Proprio come su un tapirulant Tu correndo Corri, corri, corri Ma rimani sempre fermo lì È la stessa cosa È la stessa cosa Ti affatichi Vai su Picco emotivo Felicità massima Poi crolla Poi ritorna Perché hai comprato un'altra cosa Che ti appaga E poi ricrolla E poi hai comprato un'altra cosa Che ti appaga E riesplode Poi ricrolla E tanto tenderà Sempre a tornare In questo punto medio Un punto medio di felicità Che è quello che tutti noi abbiamo Di base Che viviamo E che ci rendiamo conto di avere Sono il momento in cui Perdiamo ciò che abbiamo Purtroppo E questo è fondamentale Comprendere il prima possibile Prima di iniziare a fare tanti soldi Perché cosa succede? Che fai tanti soldi Inizi a spendere in tutte le cose possibili Immaginabili Per sentirti appagato Ma in realtà poi Comprendi questo concetto E le cose cambiano E solo se comprendi questo concetto Le cose cambiano Perché non importa Quante cose compri Non importa quanti soldi fai La tua felicità Rimane sempre E solo Questa Rimane sempre Allo stesso livello Inizialmente sei felicissimo Dopo poco ti abitui E riparte il ciclo Sei di nuovo da capo Alcuni studi hanno dimostrato Che quando si hanno In realtà Abbastanza soldi Per provvedere alle cose Veramente importanti Cioè Un tetto sopra la testa Del cibo E un po' di soldi da parte Per far fronte A spese sanitarie Avere più soldi Rispetto a questi In realtà Non ci rende veramente Più felici E più soddisfatti Cioè una volta Che io ho raggiunto Una quantità di denaro Tale che mi permetta Di vivere in modo sereno In modo tranquillo Cioè che io posso Far fronte alle spese Senza dover correre E cercare di arrivare A fine mese Quindi ti dà Proprio quella pace Quella serenità Di dire Ok ho un tetto sulla testa Ho il cibo Ho abbastanza soldi Da poter spendere Insieme alla mia famiglia Ho il tempo Per stare insieme Alla mia famiglia In realtà Avere più soldi Diventa totalmente Irrilevante Quindi non è questione Di quello che compriamo Con i soldi E prima lo capiamo Meno soldi Butteremo nel cesso E più saremo appagati Quando ho capito Questa cosa qui Ho smesso di buttare Soldi nel cesso E ho compreso Ciò che realmente conta Ed è privandoti Di questa droga Perché poi è una droga Del dover comprare 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 E i social Alimentano questa droga Perché ci sono persone Benestanti Che fanno vedere Che hanno comprato La Lamborghini Qui e lì E ti creano Quel desiderio Insoddisfatto Che ti marcisce dentro E ti tiene là Dentro Tutto Tutta la vita Con quell'insoddisfazione Che ti rende apatico Verso il mondo Triste Ti rende Povero dentro Non economicamente E di conseguenza Anche demotivato Nel fare le cose Questa è una cosa Incredibilmente dannosa Di staccarsi subito Comprendere che Non è l'oggetto Che fa la felicità Ma la felicità È dentro di noi Per quello che stiamo facendo Per quello che stiamo raggiungendo Per quello che stiamo costruendo Per la crescita Che stiamo avendo Come esseri umani Nella nostra vita Perché stiamo rendendo La nostra vita Significativa Perché ci stiamo circondando Di persone che ci amano Che noi amiamo Non perché abbiamo La casa Lo yacht Ma per quello che siamo È quello che fa Veramente la differenza E capirlo Il prima possibile Ti porterà veramente Su un altro piano Totalmente Questo è uno dei motivi Per cui non mi vedrai mai Ostentare Ricchezze O cose varie Semplicemente perché Vivo una vita Tranquilla Perché ho raggiunto Quella serenità Perché sono coperto Da finanze Che mi permettono Di essere felice Di vivere Appieno la mia vita Di ricercare Di studiare Di cercare di migliorarmi Fisicamente Mentalmente Spiritualmente Costantemente È questo Che mi appaga Che mi rende Veramente Felice Di quello che ho Piuttosto che Il rincorrere Quella macchina Voglio quella roba lì Voglio quella roba lì È roba inutile È roba inutile Ricorda Ricorda Questo segnatelo Scrittolo a qualsiasi parte Le cose che compri Finiranno col controllarti Ricordatelo Perché quando tu compri Un'automobile Compri una casa Compri tutta una serie di cose Quelle cose Molto probabilmente Sulla lunga Ti controlleranno Ma ne parleremo tra poco Scegliendo di staccarci Da questo Da questo modus operandi Di staccarci Da questa roba qua Scegliamo di essere Piuttosto che di sembrare Perché oggi viviamo Nella società Del sembrare ricchi Sembrare che tutto vada bene Sembrare tutti benestanti E tante volte ci si focalizza Sul sembrare Piuttosto che sull'essere E questo è quello che ho fatto io È un errore che ho fatto io All'inizio Quando sono aumentati I soldi che entravano Ero euforico Cavolo sto tenendo traguardi O cosa ho fatto Ho iniziato ad adattare Il mio stile di vita Alla nuova entrata Di soldi Ed è questo il modo migliore Per rimanere impiccati Perché se tu oggi Guadagni 1000 E spendi 900 E spendi 900 Hai 100 euro di libertà E succederà E succederà che cercherai Potenzialmente si E' meglio andare da Starbucks A fare il figo Col mio computerino A spararmi i soldi in caffè Anacquati e cose varie Piuttosto che comprarmi le azioni Di Starbucks 2 Perdiamo la libertà di scelta Questo è un altro punto cruciale Importantissimo Quando ho iniziato Avere successo Sono caduto In una trappola Una trappola che vanificava totalmente Quello che stavo ottenendo Cercavo di apparire migliore Vestirmi meglio Quindi man mano che guadagnavo Cercavo di mostrare Che stavo guadagnando Quindi mostrare Uno stile di vita diverso E per fortuna Per fortuna Questo è durato poco Cioè qualche mese Giusto da comprendere E poi mettermi Di dire Ma che cazzo sto facendo Man mano che aumento Aumento il mio standard Succede che Continuerò a rimanere impiccato Invece se io aumento Ma mi mantengo Base Normale Cioè ho quello che mi serve Per vivere Sì Fine Mi basta Man mano che salgo Tutta questa roba qui E tutta libertà Che io vado a comprare Vado a guadagnarmi Una volta che puoi permetterti Tutto ciò che ti serve Per vivere Sei già ricco Vuoi misurare la tua ricchezza? Bene Allora Se vuoi sapere Quanto sei ricco Tu dici Oggi Io spendo 1000 euro al mese Mi fermo E cerco di capire Quanto tempo posso vivere Se smetto di lavorare Oggi Un mese Due mesi Un anno Quella è la tua ricchezza La tua ricchezza si misura Nel tempo che tu hai Per vivere Normalmente Mantenendo il tuo standard Attuale Senza lavorare Quindi senza creare nuove entrate Questa è la tua ricchezza Molto semplicemente Voler guadagnare di più Per potersi permettere Di comprare più cose È ciò che ti rende schiavo Ti rende schiavo Di quelle cose Cioè c'è niente da fare È così È normale Più corri Perché devo guadagnare di più Così posso comprarmi quello Non fa altro che riportare Ad alzare Tutto il tuo sistema Tutto il tuo livello attuale Di schiavitù Semplicemente A un livello più costoso E poi più costoso E più costoso È il motivo per cui Ci sono tantissimi milionari Tantissimi attori Che però Cadono in depressione E si ammazzano Perché? Perché tanto sono pieni di costi Perché guadagnano un sacco Ma continuano comunque A pagare un sacco Ad avere un costo La vita troppo elevato Il problema è che si tende a dare credito Ad una equazione E l'equazione è Guadagni soldi Li spendi in cose Ti aspetti di essere felice Quindi io guadagno Perché così posso spendere Posso comprarmi l'auto Posso comprare quello Quell'altro Convinto che mi renda felice Questa è l'equazione Che in realtà ti trae in inganno E ti fa perdere soldi E ti fa rimanere schiavo a vita Ho iniziato a spendere Più che sull'ultimo modello Di telefono Di scarpa O cose varie Ho iniziato a spendere Su me stesso In educazione finanziaria Per me stesso In educazione Per imparare nuove abilità Che posso vendere sul mercato Fare nuove esperienze di vita Dei viaggi per esempio E tutta una serie di cose Che posso riportare Nelle mie attività Quando ho iniziato a spendere Su questo Piuttosto che sull'ultimo oggettino La macchina di lusso Ste cavolate qua Ho cambiato totalmente La mia vita E probabilmente L'ho cambiata anche Per gli anni futuri E se vogliamo dirla tutta Ma parlo per esperienza personale Il senso di appagatezza Che ti dà Tutto questo Secondo me Batte a mani basse Il senso di realizzazione Momentanea Che ti dà l'acquisto Di quella casa Quell'auto Quella roba lì Cioè io mi sento Sicuro di me Felice Soddisfatto di ciò che ho Di come vivo Consapevole che ho raggiunto Una tranquillità Che se mi arriva la spesa imprevista Semplicemente Tiro fuori Pago fine Chiuso Senza troppi Senza troppe pippe mentali Questa serenità qua Ti libera la mente E ti permette di concentrarti Sulle cose che realmente contano Che sono la tua crescita Che sia imprenditoriale Economica Come persona Spirituale Fisica In qualsiasi modo Ma ti puoi concentrare Sulla tua crescita Che è ciò che realmente conta Ho cambiato L'equazione del Guadagna Spendi in oggetti Cose Credendo di essere felice In questa equazione qui Guadagni soldi Li investi Per la tua libertà E ciò che avanza Lo utilizzi Quindi guadagni Investi per la tua libertà Che significa Non necessariamente Investire sui mercati finanziari Ma investire su se stessi Informazione Cose che io posso poi Utilizzare Per aumentare ulteriormente Le mie entrate E quello che avanza Lo utilizzo Per le mie spesucce Perché anche io Devo essere contento No? Cioè se anche io voglio Magari voglio togliermi Quello sfizietto lì Lo faccio Però ho cambiato Come vedi l'ordine Cioè utilizzo ciò che avanza Non utilizzo Quello che mi entra Ma solo un piccolo avanzo Tre Abbraccia la semplicità Ed esci dalla modalità Di sopravvivenza La survival mode Per gli amanti Di Minecraft O di tutti questi giochini qua C'è la modalità Sopravvivenza E poi c'è la modalità Creativa Una modalità God Tu devi uscire Dalla modalità Sopravvivenza Ed entrare Nella modalità God Cioè nella modalità Creativa Sembrare povero Ti toglie Dalla modalità Sopravvivenza Diceva Einstein Una vita calma E modesta Porta più gioia Rispetto alla ricerca Del successo Combinata Con una costante Irrequietezza Cosa significa? Significa che se io cerco Costantemente il successo Perché io voglio il successo Perché vedo nei social Che è il successo E mi sono creato l'idea Che il successo sia Yacht Belle ragazze Possiamo offrirvi qualcosa? Siamo qui per questo Avete fame? Volete mangiare? Abbiamo pasta Gamberi Ragoste Abbiamo whisky Ogni genere di alcolico vogliate Macchine di lusso E tutta sta roba qui Se io cerco quella roba lì E divento irrequieto Perché ora non ce l'ho In realtà sono in modalità Sopravvivenza Mi sto togliendo La felicità Letteralmente È molto più felice Avere una vita calma E modesta Tranquilla In cui vado avanti Per step Piuttosto che cercare Affannosamente Quella roba là Pensa che secondo Dei recenti studi Oltre il 72% Su altri studi Il 62% Si sente ansioso Addirittura Della propria situazione finanziaria E almeno un 48% Di questi Si preoccupa Dei propri soldi In banca Almeno una volta a settimana Quindi vuol dire Che ha costantemente La testa lì A dire quanto sto guadagnando Sto guadagnando abbastanza Cosa devo fare Devo Insomma arrivare a fine mese Devo fare i conti Oddio Troppe spese Troppe cose Oggi mantenere una vita Tranquilla È essenziale Per la nostra salute mentale Per avere dello spazio libero Ridurre l'ansia Ridurre lo stress E avere uno spazio libero Qua in testa Che ci permetta Di focalizzarci Sui nostri risultati Di focalizzarci Su ciò che vogliamo costruire Su ciò che stiamo costruendo Se ti aumenta lo stipendio E inizi semplicemente A guadagnare di più E ti concedi un'auto nuova Che ti prosciugherà Con le rate Perché pagherai magari le rate Ogni volta Tot rate Per il finanziamento Che hai fatto per l'auto nuova E la benzina Assicurazione Tutti i vari costi Cosa succederebbe Se perdessi il lavoro Hai comprato un'auto bella Magari un Audi Magari un Mercedes Ho conosciuto persone Che hanno fatto questo salto Perché stavano guadagnando In quel momento E poi come è successo Hanno perso il lavoro Si sono trovati a svendere Quell'auto Perché non potevano più pagarla Non potevano più mantenerla Vedi che diventi schiavo Delle cose Ragionando in questo modo Rimaniamo bloccati Nella modalità sopravvivenza O guadagno Per mantenere I miei ultimi acquisti Che mostrano Che sono benestante O sono spacciato Nel momento in cui Quei guadagni Crollano Perché perdo il lavoro O qualsiasi cosa Io sono spacciato Se invece aumenti Le tue entrate Ma mantieni inalterato Il tuo stile di vita Cioè ti mantieni Con l'essenziale Quello che effettivamente Ti serve È così Che diventi veramente ricco È così che esci Dalla modalità Sopravvivenza Ed entri Nella modalità creativa Nella modalità God Perché lavorerai Su te stesso Per creare Per produrre Piuttosto che Per pagare Le finanziarie Per l'auto Il telefono E così via Maggiore Sarà il divario Tra le tue entrate E le tue uscite Più sarai ricco E più pace mentale E tranquillità avrai Per poterti concentrare Su ciò che realmente conta Avrai più flessibilità Per correre dei rischi Ti potrai permettere Di correre più rischi Perché avrai una copertura Una liquidità dietro Tale per cui Tu possa correre più rischi Potrai provare Quindi più cose nuove Potrai Esporti Su investimenti diversi Che magari altri Non possono fare Muoverti in questo modo Non solo ti ripulisce Lo spazio fisico Perché ti toglie Dalla casa O da quello che è intorno Tanti oggetti E cianfrusaglie inutili E quindi tu sei Più aperto Mentalmente più vuoto Più libero E meno cose A cui porre attenzione E quindi puoi essere Più focalizzato Quindi sia fisicamente Che mentalmente Sei vuoto Sei più pulito E quindi pronto Per essere riempito Ma riempito di cose Che realmente ci servono Non è solo questione Di risparmiare Perché sappiamo benissimo Che quello che risparmiamo Si brucia con l'inflazione È una questione Di incanalare Quello che noi andiamo A risparmiare Lo andiamo ad incanalare Quindi a reinvestire Per crescere Ed ecco che esci Della modalità sopravvivenza Ed entri nella modalità God Nella modalità creativa Quarto e ultimo punto Riscopri il potere Di vivere In modo autentico Se basi La tua autostima Su conferme esterne Quindi hai la necessità Di mostrarti ricco Perché necessiti Di conferme dall'esterno Rischi di Uno Attrarre persone A te Solo perché hanno visto Quell'alone di apparenza E poi in realtà Non sei quello Non sei quella persona lì Due Perdi l'autenticità E soprattutto La tua autostima È legata a ciò che appari Piuttosto a ciò che sei Ed è un'autostima blanda Superficiale Che perderà molto facilmente Nel lungo termine Quello che ti interessa È avere una sicurezza Dentro Che quello che stai costruendo Ciò che stai diventando È così grande Da poter superare Qualsiasi cosa Qualsiasi difficoltà Che incontrerai Questa è l'autostima È la forza Interiore che vuoi Non ho il telefono Mi metto tutto carino Con la camicetta L'orologino Tutto fantastico Così loro Gli altri Pensano che io sia Benestante Che autostima è quella Ti crea Un sì Un'apparenza Perché dicono Ma come sei bello Come sei bravo Qua e lì Ma in realtà Non hai una forza vera Dentro Quella viene da un'altra parte È un altro tipo di percorso Come dice un proverbio Non mostrare L'esterno della tua casa Mostra il suo interno Cioè se l'esterno È tutto bello Infiocchettato Ma poi dentro È distrutto Di che stiamo parlando Tu devi aprirti Alle persone Mostrandoti Per ciò che sei Non per ciò che hai Perché se tu ti mostri Per ciò che sei Attrarai persone Che sono interessate Genuinamente a te Non a quanto hai in banca Questo è estremamente importante Devi essere sempre Autentico Trasparente In quello che fai Come io sono qua Trasparente con te Come vedi Ho messo due lucine Due cose Non è che ti sto mostrando La Ferrari Non me ne frega niente A me sta roba qui A me interessa Veicolarti dei messaggi Mi interessa Darti Autenticità Mostrarti ciò che sono Quello che dico Nel bene e nel male Ed è questo Che voglio veicolare E voglio attrarre A me persone Che siano Concordi Con questo tipo di messaggio Che siano Allineati E che siano propensi Pronti A raccogliere Quello che sto Dando In modo da poter Trasformare le proprie vite Ricordati La ricchezza Non è un qualcosa Di esterno È un qualcosa Di interno Non è la tua Fiducia esteriore Ma è la tua Self confidence La tua fiducia Interiore In te stesso In quello che puoi fare Che non importa Quante volte ti mettono Al tappeto Tu ti continuerai a rialzare Sono molti miliardari Che vivono La semplicità Piuttosto che L'ostentazione Anzi tendenzialmente Quelli che ostentano di più Sono le persone comuni Quelle che non si possono Permettere realmente Le cose E che quindi cercano Di apparire di più Pisciare fuori dal vaso Perché credono Purtroppo anche Travisati dai social Che apparire in quel modo Li renda più Appetibili Alle persone A creare connessioni A diventare più interessanti Ma non è quello Ciò che interessa È qui dentro È quello che sei È quello che fai È la forza interiore È il carisma Che trasmetti Per la sicurezza Per quello che hai costruito Per quello che stai costruendo Che nessuno sa Quello che stai facendo Ma dentro Stai facendo magari Un lavoro enorme È questo che attrae Le altre persone E Non dovrebbe neanche Interessarci In realtà Il dover per forza Attrarre altre persone A noi Quello che ci deve interessare È fare il nostro percorso Il nostro percorso Personale Di crescita Una crescita Fisica Spirituale Mentale Economica Se noi riusciamo Se noi riusciamo a crescere In tutte le aree Della nostra vita Quella felicità Quella pagatezza Continua La sentiremo Ogni giorno E va al di là E va al di là Del semplice acquisto Dell'ultima marca Di scarpe Non me ne frega più niente Non mi interessa neanche Comprarmi la maglietta Di marca Non mi interessa Sono soldi buttati Sono soldi buttati Posso piuttosto usare Quei soldi Per costruire qualcosa Di meglio Per me La mia famiglia E le persone Che ne usufruiranno Inizia a vivere In modo autentico Non ti curare Di quello che ti viene detto Inizia a portare I soldi Dove veramente Conta E ti garantisco Che la tua vita Cambierà Totalmente Un abbraccio E ci vediamo Nel prossimo video E ci vediamo